Me lo chiedete sempre, me lo chiedete tutti e me lo chiedete ogni volta ma com'è vivere a Tenerife? E io rispondo a tutti e ogni volta che posso solo offrire la mia opinione e come io mi trovo a vivere su quest'isola. Nei miei video cerco sempre di darti informazioni oggettive e obiettive e te l'ho cantata in tutte le lingue la messa del trasferirsi a Tenerife. Ho smontato miti e sentito dire, ti ho avvisato che la maggior parte delle persone tornano a casa o non si integrano mai che abbiamo problemi ai lati negativi e che siamo oggi e saremo sempre ospiti di una nazione in cui non siamo nati. Ti ho anche raccontato in questo video come nel mio caso forse fosse scritto nelle stelle che dovessi vivere qui e in questo perché non potrei più tornare indietro. Ma alla fine dei conti la sola verità è che come sia trasferirsi a vivere a Tenerife e questo è qualcosa che tu e solo tu puoi decidere se sia un paradiso o un inferno. Vabbè, ma allora mi chiederai tu come faccio a decidere se vale la pena lasciare tutto e venire a vivere lì? E questa sì che è una bella domanda. E sorpresa, sorpresa, ho una risposta che va bene per tutti. Ciao, sono Monica. Pensi che sia stato facile per me, mamma single con due figlie e senza grandi capitali alle spalle, decidere di venire a vivere a Tenerife? Certo, se sei un pensionato, hai un sacco di soldi o hai la cameretta a casa della mamma pronta a riaccoglierti allora sì che puoi farlo nella massima tranquillità perché vada come vada cadrai sempre in piedi. Ma io, io avevo quasi 50 anni e se sbagliavo rialzarsi sarebbe stata un'impresa titanica e senza certezze e quindi feci una valutazione molto attenta e dettagliata. Il sistema fu apparentemente semplice prese in considerazione 14 punti specifici e feci un paragone con l'Italia segnando un punteggio da 1 a 100 per ogni argomento e quando tirai le somme feci la valigia col sorriso sulle labbra. Ma attenzione, il metodo funziona perfettamente ma devi tenere bene a mente che ognuno di noi è diverso e quello che infastidisce qualcuno può essere il paradiso per un altro. Dipende molto da come ti senti in questo momento quanto sei soddisfatto della vita che stai conducendo del lavoro che stai svolgendo del futuro che vedi davanti a te e da una miriade di situazioni personali che possono averti portato a pensare che forse staresti meglio da qualche altra parte. Ma ancora più importante sono i motivi per cui i vari aspetti della tua vita non ti sembrano soddisfacenti perché sono quelli che determineranno se il venire a vivere qui sia la soluzione che cercavi o solo l'ennesima tegola a cui poi dovrai porre rimedio. Quindi lascia che in questo video e nel prossimo ti illustri il mio metodo e gli aspetti che ho preso in considerazione. Ma ricordati che i punteggi che ti darò sono i miei valori è che tu dovrai decidere da solo secondo la tua maniera di essere e di pensare quale importanza dare ai vari fattori e quando tirerai le somme avrai anche tu la risposta se valga o meno la pena per te trasferirsi a vivere a Tenerife. Cominciamo! Uno, la vicinanza. Questo fattore non ha un punteggio perché riguarda solo la comparazione tra Tenerife e altre nazioni in cui si potrebbe vivere ugualmente bene. Ci sono fantastiche e numerosissime comunità italiane anche in Australia, Malindi, nelle Filippine, in Sud America in altre decine di località ma le distanze rendono il distacco molto più definitivo e i costi di viaggio per eventuali spole soprattutto nei primi tempi sono abbastanza elevati. Tenerife dista più o meno 4 ore e mezza di volo dall'Italia con collegamenti quasi giornalieri e costi molto contenuti. Questo ti lascia sempre quella tranquillità di poter tornare a casa velocemente ed economicamente in caso di emergenza. Quindi, niente punteggio ma un argomento da tenere comunque presente. Due, il paesaggio. Italia 100, Tenerife 60. Parliamoci chiaramente. L'Italia è il più bel paese al mondo. Abbiamo verde ovunque, fiumi, laghi, boschi, mare, montagne, vulcani, animali di ogni specie che brucano erba bagnata di rugiada, uccelli di insetti, primaveri che esplodono di colori e autunni che ti strappano il cuore. Tenerife è un'isola vulcanica e se i luoghi turistici sono un tripudio di erba, palme, datteri, cespugli di aloe, bougainville, ecco che basta uscire dai confini del paese per ritrovarsi davanti ai paesaggi che ricordano il Texas dei fin western con montagne glabre, territoria perdita d'occhio con solo qualche rado, cespuglio e qualche piccola traccia d'acqua o d'umidità. Mancano solo cespugli secchi, rotolanti e il teschio di un cavallo morto che spunto dalla sabbia per completare l'effetto. Non so bene cosa sia successo e neanche quando, ma un po' alla volta ne ho sentito la forza e ne ho capito la bellezza. Ma niente di quello che abbiamo qui raggiunge lo straordinario incanto dei paesaggi italiani. Insomma, l'Italia in quanto a bellezza vince a mani basse. 3. Il clima. Italia 40, Tenerife 90. Se vogliamo parlare di un cambio di vita sostanziale allora bisogna che parliamo del sud di Tenerife perché al nord il clima è indubbiamente più continentale con piogge, fresco, umidità e microclimi stagionali. Al sud non abbiamo quasi mai pioggia, l'escursione termica tra il giorno e la notte è di circa 5-6 gradi, in inverno non c'è umidità e in estate pochissima affa e solo nelle giornate di calima. Nelle case non abbiamo riscaldamento aria condizionata perché in estate basta far circolare l'aria e in inverno molto raramente la temperatura scende sotto i 22 gradi di giorno e i 16 di notte. E una copertina leggera nel letto risolve ogni problema. Insomma, per una come me che da ottobre ad aprile in Italia sembravo l'omino della Michelin e che in Italia si sentiva soffocare per l'afa il clima di Tenerife sembra un paradiso ma se sei una persona a cui le stagioni danno allegria devi assegnare un punto differente. 4. La qualità della vita Italia 40, Tenerife 90. Anche qui si entra in un campo molto soggettivo perché se per alcuni la vita è bella se vicino a casa c'è un lounge bar per altri la vita è ancora migliore se vicino a casa non c'è un lounge bar. Insomma, qui il clima cambia di molto la maniera di vedere la vita e se stessi e piuttosto che l'hardware delle persone si fa caso al software. È più la filosofia dell'essere e non dell'apparire. Le persone si guadagnano attenzione e rispetto con i loro comportamenti piuttosto che con un vestito di marca una macchina di lusso in leasing ci si veste in maniera semplice ed economica non c'è molta ricchessa nell'isola e per questo ci si aiuta volentieri gli uni con gli altri e anche i tempi di lavoro sono più umani con gli uffici e i negozi che aprono dalle 9, 9 e mezza e chiudono alle 20 o alle 21. Gli orari rispecchiano bene la mentalità canaria per cui prendersi il giusto tempo per una tranquilla colazione è più importante di aprire un'ora prima per guadagnare 20 euro in più. Qui il tempo scorre piano e quello che non si fa oggi si farà a maniana domani e per me è stupendo ma se tu sei un amante della puntualità e della rapidità cambia il punteggio anzi invertilo. 5. L'alimentazione Italia 80 Tenerife 80 Vabbè è ovvio che l'abitudine hanno predominanza e la scelta incredibile che abbiamo in Italia qui a Tenerife non riescono neanche ad immaginarla ma il pareggio Italia a Tenerife tuttavia è d'obbligo perché è una scelta che si paga e a caro prezzo. Se sai cucinare anche solo un pochino tutto ha dei prezzi molto contenuti faste da mangiare bene costa molto poco e se non hai grandi pretese sembra quasi di non spendere. se poi si confronta il costo del mangiare fuori casa allora veramente non c'è storia e sono molti posti dove si mangia già con 6-7 euro con 10-12 puoi veramente trattarti bene. Bisogna sapere dove andare e dove comprare. 6. Il costo della vita Italia 30 Tenerife 100 Del costo del cibo abbiamo appena parlato ma qui quasi tutto costa veramente molto meno la tecnologia viaggia su prezzi inferiori di un 20-30% con un tablet o un ebook che possono costare meno di 50 euro il vestiario se non avete pretese di moda si compra pochi euro la benzina costa meno di un euro e i taxi costano un 30% in meno si mangia pesce al ristorante con 15-20 euro la birra e le sigarette costano fino a un 40% in meno che in Italia e l'energia elettrica costa pochissimo se sai dove andare la vita ti costerà un 30% in meno che in Italia ma solo se vivevi al nord come me se vieni dal sud non troverai grandi differenze quindi cambia completamente il punteggio 7. Attività fisiche e dolce far niente Italia 50 Tenerife 100 il voto a favore di Tenerife deriva dalla mia opinione che sebbene in Italia ci sia di tutto e di più e in talmente tante varianti da rendere persone più difficile scegliere cosa si vuole fare e il problema è che non si ha mai il tempo di fare niente e comunque tutto è molto costoso e spesso anche lontano da casa qui molte attività ti vengono offerte direttamente dai residents in cui si vive come per esempio piscina bocce mini golf tennis a calcetto abbiamo il mare a poche centinaia di metri e ogni giorno possiamo scegliere tra decine di attività gratuite o comunque economiche è sempre a portata di mano surf ciclismo trekking pesca immersioni passeggiate a cavallo parapendio nuotate con le tartarughe o esplorare le foreste in quad tuttavia scoprirai che l'attività preferita dai residenti è il cat sedging che è una parola inventata da un mio collezionale qui residente e che identifica molto bene il dolce far niente trastullarsi in lunghe passeggiate tra le scogliere o rimbalzando da un centro commerciale all'altro stare sdraiato sulla sabbia con un buon libro crogiolarsi al sole a bordo piscina con un bicchiere di sangria o sdraiarsi su qualche scoglio ad ammirare le stelle nel calzeggi rientrano anche le attività tipo grigliatona con gli amici o la canita la birretta delle 18 al cirighito più vicino insomma poca spesa e molto da fare oppure niente che è pur sempre un'attività se però ami posti chic le notti cool i bar lounge i ristoranti fusion non ti scoccia a prendere la macchina per qualunque cosa tu debba fare e i soldi non sono un problema il mio punteggio per te non vale sei arrivato fin qui e hai segnato tutti i vari punti nel prossimo video metteremo a confronto con l'italia i servizi quotidiani e la burocrazia e daremo gli ultimi punteggi per tirare le somme e valutare se trasferirsi a vivere a Tenerife possa essere o meno una buona scelta ovviamente sempre secondo la tua soggettivissima opinione ma intanto che aspetti magari iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video se questo ti è piaciuto lasciami un like e se vuoi farmi sapere che punteggio daresti tu ai vari punti lasciami un commento qui sotto non ti perdere il prossimo video